E allora ragazzi eccoci finalmente al torneo 9 ad un anno di distanza dal nostro ultimo appuntamento Siamo arrivati in finale l'anno scorso abbiamo perso 2 a 1 Quest'anno l'obiettivo è fare meglio, superarsi, raggiungere una finale Ma quali sono le tue impressioni in vista del torneo più importante di tutta Ferrara? Le impressioni sono positive, stavolta la squadra l'abbiamo lasciata fare a Calaia Abbiamo delegato a lui quindi speriamo che avrà fatto un buon lavoro Io mi fido di lui Quest'anno è da vincere, è da vincere Siamo arrivati in finale l'anno scorso quindi per fare meglio dobbiamo per forza vincere Tra l'altro quest'anno il torneo è a 7 invece che a 5 Due giocatori in più, il campo più grande, tipo Gottlieb Vediamo intanto com'è il campo, a me sembra così a vista, mi sembra buono E allora andiamo a scoprire quali saranno i giocatori di questa FDM Team per il torneo 9 Giochiamo due davanti, i due davanti rega dovete essere stra-intelligenti voi Quando andare, quando rimanere La palla l'abbiamo persa lì davanti, siamo lì davanti, stiamo davanti, ognuno un uomo Attaccati, ognuno ha attaccato un uomo Quindi la cosa fondamentale rega è non essere stretti né larghi, né alti né bassi Tutti ci dobbiamo muovere sincroni esattamente Tutti che usciamo insieme Cioè difendere bene, giustiamo bene la palla Se non siamo pressati portiamola Non facciamo il passaggio, finché non ci pressano Poi giochiamola dietro, davanti, non sbagliamo, senza pressione Parliamo tra di noi Mi raccomando, forza FDM Team Se non fai gol, torni giù e mi dai soldi Te lo dico subito No, in realtà è la tua squadra Si chiama FDM Team Vabbè, io sono il DS Danza, quale sarebbe già? Nick, se dovessi dare un consiglio a un giovane calciatore che ti sta ascoltando, quale sarebbe? Quanti anni ha un giovane calciatore? 32 Tirati, garantino Ma chi è il membro della squadra da cui hai più aspettative, Nick? Il membro della squadra? Sì, non intendo il cazzo, intendo il giocatore Ah, perché? Lei è il portiere che ti ha dimanato? Non è stato così tanto bene Spettative sul portiere, insomma Invece FDM, quali di questi giocatori ti sembra meno affidabile guardandoli negli occhi? No, 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 no Voglio che il ritmo della partita sia basso Noi dobbiamo calciare il tuo ritmo basso Perché visto che siamo corti non è che andiamo a spingere, a pressare, a fare Noi partiamo non a metà campo Ma stiamo un po' più alti Allora gli facciamo fare il primo passaggio Questi due, come dicevo prima, sono fondamentali Non devono stare né troppo aperti né troppo chiusi Si devono muovere sincronizzatamente Esce uno da davanti, tutti forti, chi ama Ishi, o chi è in banchina, chi ama Ishi Tutti attaccati a un uomo Riga, ma attaccati vuol dire a mezzo metodo di distanza Se perdiamo la palla, se puntiamo la sbagliamo Se tiriamo il porta fuori Se facciamo il testo bagliato, noi fai un piazzo A me l'interessa, soltanto che la parte tattica difensiva del campo sia corretta Speriamo di usare queste cose, andiamo a sbagliarci Quali sono le tue sensazioni pre-match? Buone Questi qua, che quando sono venuti hanno detto tutte le telecamere qua La classica cosa che succede sempre, no? E allora benvenuti al primo turno di qualificazione del torneo Novi Uno dei tornei più importanti, sono il più importante di Ferrara Quest'oggi FDM Team VTZ e si parte Ricordiamo la scorsa stagione come finì con un secondo posto Ed un 2-1 che sta facendo ancora discutere Ma adesso è tutta un'altra storia, bisogna rifarsi Allora il 28 dei rossi dribbla secco il 22 Ovvero Fabio, non Di Mauro in questo caso Giocatore con la 22 per la squadra dei neri Calcia il 28 intanto, becca la barriera poi ci riprova Deviazione, sarà calcio d'angolo E allora calza Varini al centro, il 77 di testa non inquadra Lo specchio della porta Matteo, lunghissimo, direzione FDM Che aggancia la sfera, alla perfezione Poi pressato, buca! Sotto le gambe un difensore avversario E poi anche il portiere Ed è subito vantaggio da parte della squadra di Fabio e compagni Rivediamo il lancio bellissimo L'uncino da parte di Fabio e tanta roba Pressato, glaciale davanti al portiere a portare avanti i suoi Ma vediamo la reazione da parte della squadra avversaria Col 9 che cerca spazio, non lo trova Ma viene fischiato comunque un fallo La palla a direzione secondo palo Non trova nessun giocatore Pressato difende la sfera dagli attacchi avversari Poi gioca per il Gambero Che torna dal 7 Ancora pressato al centro direzione Fabio Anticipato da un giocatore avversario Prova ad impostare poi i giocatori della VTZ Ma con scarsi effetti Gamberini ancora a scambio per FDM Che gliela da colpetto L'11 ancora per il 9 Che cerca il dribbling in mezzo a 2 Gli riesce, poi non ha spazio Si porta a casa comunque un fallo laterale Gamberini pressato di Mauro Pressato ancora lui E ancora una volta a rispondere il numero 1 dei rossi Se la prende poi il 22 Ma è stato segnalato un fallo su Picci E allora vediamo se riuscirà a ribaltare le sorti di questa partita Iniziata molto bene per la squadra di Fabio E allora bello il dribbling da parte del 28 Che cerca spazio il suo destro Sbatte sulla schiena del nostro Fabio E ora Gamberini Vecchia conoscenza al balza per Fabio Riparte intanto ancora il 9 Steso, messo al tappeto Giallo per Fabio Ci prova Calzavarini sul calcio di punizione La palla però si perde sul fondo Matteo va lunghissimo A cercare nuovamente lo schema di prima Buca l'intervento l'1 avversario E poi ci mette una pezza Il difensore della VTZ Calzavarini prova a ripartire Con eleganza e con l'assistenza di Piccinardi Che torna ancora dall'11 Che prova a sterzare Vuole il centro Poi preferisce le vie esterne Gamberini Pragmatico Spazza via Ed ora Jean-Pierre Lo scambio con il 10 Che la gioca al centro Si porta a casa Un calcio d'angolo Fidato a FDM Scambio corto con il 21 Che torna dal 9 Cerca spazio Fabio E cerca anche una soluzione di gioco Che porta il nome del 22 Poi allontana ancora l'8 Ma sarà ancora calcio d'angolo Fabio Di Mauro Scodella sul secondo Di testa allontana La retroguardia avversaria Riparte il 9 Gamberini lo contiene Insiste sempre La difesa dell'FDM Che va da Fabio Cerca di giocare la sfera al centro Allontana I pericoli Ancora la VTZ Mentre c'è la sostituzione Esce Fabio Bello il viero di Jean-Pierre Per Pressato Rivediamo come si è girato il set Che però In volé Non ha inquadrato Lo specchio della porta Adesso attenzione Perché ci riprova ancora La squadra rossa Che però non riesce a sfociare In un attacco prolifico Quello che cerca ora Pressato Ma la risposta dell'1 A dire ancora di no E a tenere a galle il suo E attenzione Il fallo del 22 Che è già monito E allora L'FDM giocherà con l'uomo in meno Da ora Fino a fine partita Ricordiamolo Due tempi da 25 minuti Intanto ci viene riproposto Anche il colpo di testa Del numero 7 Dell'FDM team Mentre Il gambero Verticalizza proprio per Pressato Che va al sinistro Ma il portiere para Una sanzione comunque Importante Del direttore di gara Ai danni di Fabio e compagni Ottima La chiusura qui del gambero Su una palla persa In maniera un po' ingenua Da Abra Calaia L'11 Verticale per Pressato Che col tacco Va da FDM Che può calciare E lo fa ora Era anche un po' scivolato Giocata però Veramente monster Del numero 7 Della squadra In casacca nera Poi Fabio Poco lucido Ma si riparte Il dominio sembra Comunque Nelle mani Di Abra Calaia e compagni Il 9 va al centro La palla passa Pressato Il suo sinistro Miracolo Di Matteo Che tiene ancora Vivi suoi Mentre Jean-Pierre Riceve da calcio D'angolo Lo scambio Con Abra Calaia Che cerca una soluzione Al centro Non arriva Nessuno Arriva ora Fabio Di Mauro Cercare di sfidare La retroguarda avversaria Va sul sinistro Poi alza questo Pallone che non passa Chiude Calzavarini Riparte ora La squadra Della VTZ Con questa verticale Sempre per il 10 Che col mancino Non inquadra però Lo specchio della porta Quando mancano ormai Due minuti Allo scadere del primo tempo Abra Calaia difende La palla dalla pressione Avversaria Cerca di uscirse Ne ce la fa Si aprono gli spazi Ora Per l'FDM Pressato prova Ad andare Viene contenuto però Dai giocatori avversari L'uno intanto rischia Abra Calaia la ripulisce Pressato calcia in porta E sono due Per Fabio e compagni Arriva la doppietta personale Di Matteo Pressato Ottimo Comunque Il suo imprinting Sulla squadra Si sta trovando a meraviglia Per un'ingenuità Sicuramente importante Da parte Del numero uno Della VTZ Si gioca ancora Nonostante ora Una trattenuta dubbio Picci prova Andare in avanti Viene fischiato Adesso un fallo Su Jean-Pierre L'arbitro Qualcosa da ridire Al numero nove Avversario Quando Calzaverini Prova a mettere il motorino Uno dei giocatori Più pericolosi Calcia Jean-Pierre para Poi il 10 Col suo destro La palla si perde Nelle manone di Matteo Fabio si sgancia E prende una palla Rischiosissima da Jean-Pierre Prova ad avanzare Poi l'arbitro fischia Un fallo E anche cartellino giallo Un po' generoso Bene così per Fabio Calcia Jean-Pierre Ma non c'è più tempo Si concludono così I primi 25 minuti di gioco Sul punteggio di 2-0 In favore dell'FDM Team Che sta giocando Con l'uomo in meno Allora è tutto pronto Per la ripresa Tra FDM Team E VTZ Il primo tempo Ha visto vittoriosi Fabio e compagni Col punteggio di 2-0 Ma ci sono altri 25 Da giocare E sicuramente Non sarà facile In inferiorità numerica In 6 contro 7 Matteo lunghissimo Per pressato Però la VTZ Se la cava benissimo Prova a sprintare Il 10 invece Dell'FDM Team Buono il dialogo col 7 Poi il 21 Si aprono gli spazi Prova a calciare La palla però Gli resta sotto E può ripartire agevolmente La squadra In casacca rossa Fabio riconquista Che va da pressato Si trovano molto bene Il 7 e il 9 Prova a sprintare Si inserisce anche FDM Pressato Prova a fare tutto da solo Nonostante gliela avesse chiamata Fabio Qui forse Un eccesso Di egoismo Però Comunque è tutto Under control Almeno fino ad ora Per la squadra Che l'anno scorso Si è proiettata in finale Dopo Una sola sconfitta Nei turni di qualificazione Ottimo comunque Il percorso E vediamo Se sarà altrettanto Limpido Anche quello di quest'anno Il 22 Intanto al centro Calcia L'attaccante Della VTZ Che però Liscia un po' il pallone E lontana Fabio Prezioso anche in fase Di copertura Mentre pressato Sterza verso il centro E va a giocare Proprio per il 9 Che calcia Para il portiere avversario Poi ancora Fabio Di Mauro Arriva il gol Del 3 a 0 Da parte di FDM Quando siamo al 28esimo minuto Rivediamo il replay Bellissimo Il passaggio comunque di pressato E poi FDM In un primo momento Non perfetto In un secondo però Con la porta sguarnita Non può sbagliare Prova anche Calzoverini A non sbagliare però C'è l'opposizione Di un ottimo Matteo Che sta disputando Un gran match FDM Slalom in mezzo al traffico In mezzo a due Che eleganza E poi lascia Jean Pierre Con il suo mancino La risposta Del portiere Della VTZ Adesso riparte ancora Un'altra azione D'attacco Che nonostante La superiorità numerica Non sta facendo vedere Grandi cose La VTZ Che calcia Prende il palo Quasi a provare a smentire Le mie parole Poi con la schiena Matteo in calcio d'angolo Gamberini Stacca di testa in aria Ma non è finita Ancora pressato La fa sua E fa ripartire Fabio Di Mauro Il gambero Si inserisce Sull'out di destra FDM Preferisce fare Tutto da solo E non è Una grande idea Perché si era sovrapposto Molto bene L'undici Dell'FDM Ma intanto Attenzione perché Quattro contro due Manovra sfruttata Non bene Da parte Dei giocatori In casacca rossa Ancora una volta Sventaiata di Jean Pierre Idilliaca Per Pressato Che però Non riesce A ottenere il centro Si porta a casa però Un calcio d'angolo Che batterà Proprio il numero 7 Per Fabio Che difende la palla Dalla pressione avversaria Poi Jean Pierre Il numero col tunnel Passa ancora il 77 Che gioca al centro Per Fabio Di Mauro Che con la punta Davvero Giocatore di futsal Trafigge Il portiere avversario Per la quarta volta Nella sua giornata Rivediamo il replay La palla perfetta Di Jean Pierre FDM con la punta Dello scarpino sinistro A punire così Gli avversari E a mettere Forse un'ipoteca Quando mancano ancora 15 minuti Al termine di questa sfida Il 28 Calcio a Matteo Questo è un tiro Che fa il solletico Al portiere Dell'FDM team Calzavarini Prova ad avanzare Si sposta la palla Sul mancino Ancora una volta Matteo In presa sicura E a far ripartire Ora Bracalai Il 30 Uncina la palla Poi col tacco Meravigliosamente Perpressato Che con la porta vuota Non fallisce E sono 5 Emanita Sicuramente un avvio Monster Da parte della squadra Di Fabio e compagni Seppur L'avversario Non sia stato Di particolar spessore Almeno Fino a questi primi 40 Ottimo Comunque L'approccio Di tutta la squadra Una squadra Che vuole vincere Che vuole arrivare In fondo Allora Calaia Dentro per Jean Pierre Che mette a sedere Anche il portiere Giocano quasi Con gli avversari Il 77 Il 30 E poi pressato Spara alto Sopra la traversa Si divora La rete del potenziale 6 a 0 Comunque un fattore Da non sottovalutare Quello della differenza Reti Anche per il posizionamento Anche per il posizionamento In classifica Bracalai Ha toccato duro Dal 28 Finisce a terra Sentiamo le urla Di Nick Fin qui in tribuna Nulla di grave Però Per il 30 Che si rialza Mentre il 22 Sprinta Cerca una reazione Da parte dei suoi La rovesciata Del 10 Che però Sicuramente Non desta sospetto A Matteo Che allontana La sfera In maniera non perfetta Pressato La lavora Comunque bene E poi il 77 Anticipato Da un difensore avversario Dal 22 Che pensa al tiro Lo prova Alta Fa gol Sì Ma dietro la porta Difesa quest'oggi Ottimamente da Matteo Tanto Bracalaia Prova a congelare il risultato Con l'aiuto del 77 Jean-Pierre Che prova l'imbucata E il portiere avversario Si prende Qualche licenza di troppo Ma se la cava E allora la VTZ Sventaiata Dalla parte destra Del campo per l'otto Che torna All'indietro Dall'11 Calzavarini Ma non becca Lo specchio della porta Tutta chiusa dietro Ora la squadra di Fabio Mentre prova l'ultimo attacco Cerca il gol Almeno Della bandiera Gol che può arrivare Ora Con questo destro Slisciato Ma c'è deviazione Calcio d'angolo Gamberini allontana Ottima Prestazione anche Dell'11 Nonostante Il suo background Sia Da futsal E non da calcio A 11 Fabio Di Mauro Intanto il dribbling Sull'esterno Se ne va Fa fuori un uomo Ne fa fuori due Poi cerca una soluzione La trova Ipoteticamente Nell'11 Che però Non riesce a giungere Sulla sfera Complice anche L'ottima Copertura Del 77 Avversario Che si porta a casa Una rimessa dal fondo Gamberini Servito da Matteo Va in avanti Va in avanti da Bracalaia Controllo Controllo infelice Però del 30 Allontana il portiere Che pesca Dalla parte opposta Calzavarini Che sterza Verso il centro Lo contiene Arbi Qualche giocata Di troppo Dell'11 Avversario Capisce il 21 Che va da Fabio Di Mauro Che sfida il 77 Lo fa fuori secco Steso Proprio dal giocatore Del VTZ Seconda munizione generata Da parte del Folletto Con la 9 Calcio di punizione Intanto Dano Mattonella Interessante Col 30 Che cerca il 21 Che vince Rimpallo Poi la palla Giunge in qualche modo A Fabio Che deve retrocedere E poi allarga Per Abracalaia Toccato duro Al limite dell'aria L'11 La sfera comunque Passa E giunge Ad Arbi Che cerca I numeri sul 10 C'è anche Fabio Tutto solo al centro Cerca Il tiro in porta Il 21 Soluzione Forse Non perfetta Tanto Riparte il 10 Che calcio in porta Ma non c'è più tempo Finisce così Il primo turno Di qualificazione Di questo torneo Novi 5-0 Per l'FDM Team Che passa Nonostante L'inferiorità numerica Allora raga Com'è? Ve l'aspettavate? Ci siamo stati bravi L'abbiamo impostata bene A livello di gioco Per me Ognuno ha fatto Il proprio compito Quindi questo È stato dispensabile Forse potevamo Fare qualcosina in più A livello di errori Che abbiamo sbagliato Nelle piccolezze Però a livello di testa Gioco Ci siamo stati tutti sul testo Non è che ne hai minto 2 Bravissimo Ho salutato Mai preso il rosto Nella mia carriera Non puoi andare sui miei cammini Ragazzi Sono in porta Devo dire Tanta A cazzo di roba Non ho sbagliato niente Un po' coi piedi Ogni tanto Però a livello di porta Credo che Promosso Sono soddisfatto Qualcosina per me manca L'ora è da troppo poco Bisogna paragonarsi Con un'altra squadra Ma io per oggi Sono soddisfatto E com'è stato il ritorno Con le scarpe da calcio a 11? La mattina oggi Era perfetta Era morbido Come non gli hanno scivolato 2 gol E un assist Però devo dire Che la giocata più bella È l'assist Secondo me Ho fatto uno stop Apprecinato Infatti questo C'è altruismo Di ballontissimi Che è stato battezzato Come MVP Dicci qualcosa Com'è stato giocare Nell'FDM Team Tripletta On Fire Impressato Ma è stato bello Ti dico la verità Aspettiamo la prossima Ma vinceremo anche la prossima Senza problemi Allora ragazzi È finita questa prima partita Del torneo Novi Ci vediamo la prossima Mi raccomando Continuate a seguire il torneo Speriamo che vada Sempre bene così Seguiteci Ciao ragazzi Al prossimo video Ciao